Abbiamo ospite con noi il direttore di Confesa del Centipiocenza Fabrizio Samuelli, benvenuto. Buongiorno a voi radioascoltatori. Parliamo di questo evento molto importante, molto interessante per la nostra comunità che si terrà nella vostra sede giovedì 15 di febbraio. Saranno presentate in questo seminario delle cose molto interessanti, tra l'altro è aperto al pubblico, ad associati e non, consulenti fiscali ed altre figure, quindi un po' a tutti. Sì, noi abbiamo inteso allargare questa opportunità, questa informativa, a tutti proprio per la valenza di questo bando nazionale che interessa in particolare una categoria, quella dei pubblici esercizi, che è fortemente rappresentata sul nostro territorio. Sarà un momento, ripeto, informativo, utile anche perché le domande dovranno essere presentate a partire dal primo marzo, quindi i tempi sono abbastanza stretti, e in questo caso vale la modalità della data di presentazione, data orale di presentazione, quindi è molto importante questo aspetto. Entriamo nel merito di questo bando. Questo bando dà contributi in conto capitale per quanto attiene attività, si vengono specificati anche i codici ATECO, quindi ristoranti, fast food, rosticceria, friggitoria, comunque coloro che dispongono di posto e sedere, gelateria e pasticceria, produzione di pasticceria fresca. Questo sia nell'ambito di acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali innovativi, ma anche per la sottoscrizione di contratti di apprendistato nei confronti di giovani diplomati nei servizi dell'astronomia e dell'ospitalità alberghiera. Quindi è un intervento molto importante perché va a dare delle risposte concrete a un settore che sta sviluppandosi e sta portando un indotto molto forte legato al turismo. Il turismo che, ne abbiamo già parlato proprio anche con Samuelli, è in aumento a Piacenza. Tra l'altro parlerete anche di importanti opportunità formative. Assolutamente sì, perché questo è il nostro altro ambito che vogliamo portare avanti, cioè formare il personale, gli addetti in vista della stagione, due eventi molto importanti sia per quanto riguarda i pubblici esercizi, quindi legato a un corso d'inglese, sia anche i negozi perché il primo luglio avremo la fortuna di ospitare la tappa, la partenza della tappa del Tour de France e vorremmo che i negozi accogliessero al meglio tutta la carovana. Sul fatto della ricerca di personale, sta migliorando qualcosa? Ci eravamo lasciati nell'ultima intervista su questo tema dei problemi che ci sono. Allora, diciamo che ci stiamo lavorando, diciamo che qualche apertura si vede, dobbiamo però proseguire in questa direzione cercando di garantire agli addetti che si avvicinano al settore sempre più opportunità. Fabrizio Samuelli, direttore di Confeser Centipiacenza, ospite di Radio San Piacenza 24. Grazie, buon lavoro. Grazie, tra il tanto, buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.